tutti amiche amici bentornati e bentrovati nel canale di mamma formica e gigiolino oggi nuovo video ricetta andremo a preparare i fusi di pollo col sugo di pomodori e olive non mi per te in chiacchiere e vi lascio al video subito dopo la sigla ciao iscriviti al canale 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 canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale ciao 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 ciao